Assessore Cinzia Mirabella, proseguono serrati i controlli per stanare quelli che sversano illegalmente nel nostro territorio. Questo weekend abbiamo visto diversi episodi di sversamento di rifiuti in modo illecito, non conformi, non consoni e soprattutto in orari e non da calendario di raccolta rifiuti. Sono state fatte delle azioni di bonifica nel parcheggio della ferrovia, anche perché la ferrovia dello Stato ha ripreso il normale tratto, quindi abbiamo provveduto a ripulire quell'area che è fortemente frequentata. Abbiamo fatto delle azioni di bonifica grosse anche sull'area mercatale della circonvalazione. Oggi proprio si concludono le ultime azioni di questo percorso abbastanza lungo e tortuoso perché abbiamo ritirato veramente quintali di rifiuti di ogni tipo, di ogni genere e abbiamo impiegato tempo perché le quantità erano enormi e le risorse coinvolte. Abbiamo dovuto ovviamente coinvolgere la nostra ditta Butol, con cui abbiamo un contratto, la società Edilcava e l'ufficio NU che veramente ringrazio vivamente con il nostro dirigente russo che ha dato una forte spinta per la risoluzione di questo problema che veniva trascinato da anni. Queste bonifiche ora si faranno periodicamente? Ovviamente queste bonifiche sono fuori dal nostro contratto con la ditta in essere, la ditta Butol, quindi prevedono che debbano essere pagate non gravando sui cittadini. Questo è il nostro intento, questa è la nostra linea di indirizzo, quindi significa che vengono sottratti alcuni servizi come lo spazzamento che purtroppo è necessario, ma in alcuni casi si preferisce bonificare un'area di quel tipo proprio perché ci sono delle scuole vicino, proprio perché è stata molto attenzionata di materiali pericolosi che stiamo valutando, l'entità e anche la quantità e quindi ovviamente bilanciamo delle azioni per poter non gravare sull'Atari dei cittadini. Non prevede si possa installare delle telecamere di videosorveglianza? Il problema delle telecamere è un problema sentito e più volte richiesto da tanti cittadini. Noi abbiamo un numero di telecamere che ruota periodicamente in tutta la zona, tutta la città, in tutte le zone dove c'è maggiore richiesta, dove c'è maggiore necessità. Ovviamente noi non possiamo avere telecamere per ogni angolo di strada. Le abbiamo e sono supportate anche dal lavoro della Polizia Municipale che nelle giornate particolari dedicate al controllo dei rifiuti, insieme all'indirizzo politico del Consigliere Mele, girano e sorvegliano il territorio. Quindi sono più azioni e più forze che insieme collaborano perché le telecamere da sole non bastano. Stiamo ricevendo, devo dire la verità, anche filmati da cittadini che spontaneamente ci contattano in privato e questa cosa è molto gradita e molto utile, come è successo a Via Ruggero e come è successo anche altrove sulla Nazionale. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare e invitare coloro che vogliono aiutarci in questa attività di controllo. Le telecamere sono necessarie, sono fondamentali, però ovviamente il territorio è molto vasto. Questo significherebbe un ampio numero di telecamere che in questo momento non possiamo, ma soprattutto un numero di personale che deve poi dedicarsi nella verifica dei filmati. E in questo momento, per quanto abbiamo un incremento delle risorse della Polizia Municipale con i nuovi arrivati del concorso RIPA, non basterebbe per un territorio così vasto come Torre del Greco. A seguito di questi controlli sono scattate anche sanzioni? Sì, ovviamente noi abbiamo, mi dispiace dirlo, beccato sia persone di Torre del Greco, ma anche persone di fuori. A volte sono cittadini che non conoscono proprio il conferimento dei rifiuti, non conoscono il calendario, non capiscono ancora che il rifiuto va depositato proprio nella prossimità della propria abitazione, fuori la propria abitazione, non bisogna attraversare la strada. Non conoscono ancora proprio la modalità della richiesta dei bidoni, qualora appunto la famiglia fosse, la palazzina fosse di un numero maggiore di sei abitazioni. Cioè, quindi c'è tutto un discorso che secondo me è di disinformazione, che nonostante ovviamente i mezzi a nostra disposizione, nonostante la pubblicità della Butol, è ancora carente. Infatti nei prossimi giorni è stato richiesto proprio a un tavolo tecnico ieri di provvedere a una distribuzione di volantini, dove i cittadini potranno richiedere, con i gazebi informativi che stanno un po' girando per Torre del Greco, il ritiro dei vecchi bidoncini non etichettati, non quindi identificabili, con i bidoncini, ovviamente con il codice a barra che rintraccia il proprietario del bidoncino. Quindi stiamo facendo un'azione di educazione, per quanto è nella possibilità, un'educazione che dovrebbe venire prima nelle famiglie, anche nelle scuole, di cultura, di amore del territorio e poi ovviamente anche di informazione. Per quanto riguarda il deposito degli ingombranti, lo ricordiamo, la Santissima Trinità in questo momento è aperta, invece Viale Sardegna è chiusa. Viale Sardegna è chiusa, stiamo valutando un ulteriore punto, sempre in periferia, stiamo valutando di trovare un'ulteriore aria, perché ovviamente la quantità degli ingombranti è notevole, quindi bisogna pensare sempre a un punto in periferia, a un punto al centro. Invece per quanto riguarda la consegna dei kit per la raccolta differenziata, molti cittadini chiedevano anche alla nostra redazione quando avverrà la prossima distribuzione. Dopo Natale si ipotizza a gennaio, ovviamente così come è previsto da contratto.